L'azienda operava a Pignataro Maggiore sui terreni sequestrati al clan Nuvoletta, una faccenda che non è piaciuta al gruppo criminale di Marano, che ha iniziato a vessare i titolari dell'azienda con minacce e distorsioni. Scoperti dai carabinieri, sono stati arrestati quattro esponenti del clan. In carcere sono finiti Angelo Nuvoletta, il figlio del defunto padrino Lorenzo, e i suoi due figli, Edoardo e Lorenzo. In manette, su ordine della DDA, ha anche una quarta persona, Biaggio Passaro. I quattro si erano recati più volte nel corso degli ultimi mesi nella zona di Pignataro Maggiore, dove sono ubicati i terreni sequestrati proprio alla storica famiglia malavitosa di Marano, ed avevano ripetutamente minacciato i titolari dell'azienda, imponendo di fatto il loro controllo sull'azienda.